Lo so ragazzi E' strano che sono tornato Lo so, è strano, è molto strano Infatti mo mi fa strano Strano, gioco le parole, sono troppo strano Quando dico strano, faccio strano, faccio rap Infatti sono un po' strano Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Lo so, è da secoli che non carico video ma Appunto sto registrando questo video E' da un mesetto buono che non carico video Quindi ragazzi, mi scuso, non le mie scuse Ma ragazzi, con la mia sincera verità Vi dico che avevo reggiato tre video Uno l'ho provato a mettere, mi dà copyright Gli altri due A fine ci ho ripensato e non li ho messi Se no Intanto potevo caricare quei tre video Mi rosica che un video di questi L'avevo messo sul canale ma Mi è stato bannato per copyright Perché ragazzi, quel video l'avevo editato proprio bene Ci avevo messo due, tre orette Ma ragazzi, era il video più bello del mio canale Però sono qui davanti questa videocamera Per parlare del mio futuro su questo canale Stiamo subito dicendo che Vorrei portare 1-2 video settimana Secondo come Mi sveglio la mattina e dico Se voglio registrare sì o no Voi starete chiedendo Perché porti solo 1-2 video settimana Allora Se ne porto 1-2 Le editerò bene Però se volete Tipo 3-4 video la settimana Me lo dite Però Farò 2 O ne porto pochi ma Buoni O ne porto tanti ma Di breve durata 3 minuti Poco evitati Giusto così per portarli Io so dal parere che Pure se ne porto 1 settimana Me lo devo portare bene Quindi ragazzi Fatemi sapere sotto qui nei commenti Poi ragazzi Il motivo della mia assenza È semplice Non ho avuto voglia Niente Sculpa ragazzi Non ho avuto voglia di registrare Infatti molte persone Mi hanno chiesto Perché non registrò più E questo è il motivo Non avevo voglia ragazzi Cioè io Voglio mettermi qua davanti Questa videocamera Non mi si creava per niente Perché io Studiavo Faccio i compiti Giocavo all'Xbox Mangiavo Dormivo Mi lavavo E ecco la mia routine Però ragazzi Oggi sono andato a rivedere Il mio canale E ho visto che L'ho abbandonato Quindi sono subito Tornato qui davanti Questa fottuta Di videocamera E portare bei video E nuove avventure con voi Poi l'ultima cosa ragazzi Di questo video Che Io a portare questi Cioè io porto Un format misto Allora Game non riesco a portarlo Anche se a me piacerebbe Un botto Perché Lì uscirebbero Un botto di video Al giorno Un botto di video Solo che ragazzi E' un po' E' complicato Quindi non riesco Ragazzi Questo qua Genere L'intrattenimento Cioè Allenge Parodie E ste cose A me piace portarle Solo che Dipende da voi Quindi ragazzi Scrivetemi sotto nei commenti Se preferite Questo Format di sempre Oppure Tipo che ne so Calcistico I post partita I risultati Le schedine Da fare Ste cose Scrivetemi sotto nei commenti Niente ragazzi Per questo video è tutto Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Soprattutto commentate Perché in questo video Mi servono tanti commenti Che serviranno Per il mio futuro Niente Noi ci vediamo Al prossimo video Lancia il nome Mo lo sanno bro Stavo solo nello studio Tutti quanti mi snobavano Mo sul cello Che mi richiamano Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie a tutti.